Pronti? Uno, due, tre? Buonasera a tutti, benvenuti. Complimenti, ci avete veramente sorpresi e siamo felicemente contenti di vedervi qua. Tutti riuniti, stretti, e così non sentite neanche il freddo. Non sentite neanche... Non sono capace di usare il microfono, sto imparando. Allora, la scaletta di questa sera... Io sono Fiore Antonino, sono coordinatore del gruppo, non il più bravo. I coordinatori sono gli altri. Allora, la scaletta di questa sera è... Io spiegherò brevemente chi siamo, poi Giorgia Lubian spiegherà il perché ci troviamo, quindi le motivazioni che sono la base di partecipare a un gruppo di filosofia, a un circolo di filosofia per tutti. Carlotta Penzo ci vi illustrerà l'epitome, che è il risultato di un anno di lavoro, dove ha raccolto un po' tutto quello che abbiamo fatto. E Dario Capretta, Donato Deserti, Giovanni Vettoretti, condurranno invece il laboratorio di dialogo, che è la cosa che ci interessa di più. È un esperimento che vogliamo provare a fare, vediamo come riuscirà. Ok? Bene. Quindi noi siamo un circolo di filosofia per tutti e il per tutti non è messo lì a caso. È proprio per tutti. Non accettiamo solo filosofi. Beh, certo, se ci sono benvengano, ma è per tutti. Significa per tutti coloro che siano curiosi di confrontarsi, di conoscere e dialogare senza giudicare e nel rispetto reciproco. Non serve molto. Un po' di curiosità. Il circolo è composto da una ventina di persone appassionate di filosofia, molto diversi per formazione, professione ed età, ma accomunati dal desiderio di approfondire la propria conoscenza attraverso il confronto dialettico su autori e opere della filosofia antica e contemporanea. I partecipanti si confrontano su argomenti controversi e si spingono oltre i limiti della loro conoscenza. Il confronto aiuta proprio a questo. Questo ambiente di confronto rispettoso offre una preziosa opportunità di crescita personale e di arricchimento culturale e consente di ampliare la propria visione del mondo sviluppando nuove idee e il proprio senso critico. Ci siamo mossi nel solco del tema dialogo e comunicazione studiando le opere di alcuni filosofi e autori distanti tra loro nel tempo e nello spazio che ci hanno aiutato ad approfondire la ricchezza di questi concetti. L'epitome che poi Carlotta presenterà è la raccolta e il risultato di tutti questi incontri. Adesso passerei la parola a Giorgia che ci spiega l'importanza di partecipare a un circolo di filosofia. Grazie Giorgia. Buonasera. Sì, buonasera. Io sono Giorgia Lugian. Partecipo al circolo di filosofia con grandissimo piacere e non posso non partire dalla mia esperienza personale per spiegare che cosa significa partecipare ad un'esperienza così. Siamo abituati siamo anzi in questa vita così frenetica a dedicare poco tempo anche al pensiero e certe volte proprio il pensiero è l'ultimo dei nostri pensieri. Pensare ecco più che il pensiero il pensiero diventa un po' così marginale e c'è comunque questo bisogno di ritrovare degli spazi dove fare anche un po' amicizia con il nostro modo di pensare e con i nostri ragionamenti. Il circolo di filosofia per tutti è proprio un luogo dove questo può avvenire e tra diciamo le l'esperienza anche più significativa è quella che attraverso la condivisione dei pensieri e l'ascolto anche del pensiero degli altri la nostra mente è veramente quello spazio ampio dove possono stare i pensieri non solo nostri ma anche quelli degli altri e questo serve tantissimo perché non diventa un ascolto passivo al quale molto spesso siamo abituati ma diventa uno stimolo uno stimolo al ragionamento e alla partecipazione e alla condivisione ecco quindi il circolo di filosofia non è solo un come dire un attività intellettuale ma è una vera propria esperienza di pensiero ecco questo bene io passo la parola a Carlotta grazie Giorgia Carlotta adesso devi dietro c'è un rosso devi accendere quello ok allora io ho il compito di farvi vedere così anche visivamente riuscite a comprendere molto velocemente quello che è stato il risultato del nostro lavoro di quest'anno insomma sostanzialmente e che abbiamo chiamato epitome ossia un riassunto un compendio in quest'epitome che potrete trovare in biblioteca perché abbiamo intenzione appunto di anche per omaggiare sia l'amministrazione sia anche la biblioteca stessa che si ospita di un qualcosa che è il nostro lavoro con tutta ovviamente la massima umiltà per quello che può essere il prodotto di persone che si trovano per il piacere di parlare insieme non proietta ecco avevo detto bisogna che provi grazie ok no questo è un pdf grazie assessore allora appunto qui abbiamo i partecipanti quindi potete vedere anche le persone che poi alcune si sono tolte altre si sono aggiunte quindi sostanzialmente sono tutte le persone che hanno partecipato e che hanno lasciato anche il loro contributo che sarebbe essenzialmente questo allora qui vedete l'invito a lettura l'esperienza coinvolgente di un circolo ci presentiamo un attimo poi prendiamo in esame quelle che sono le opere che abbiamo letto siamo partiti con l'apologia di Socrate sapete quando Socrate subisce il processo che poi lo porterà a bere la famosa cicuta ecco se noi clicchiamo perché sono stata brava a creare dei link in maniera tale che si arrivi qui quando arrivate al testo dell'opera cliccando qui vi trovate anche effettivamente l'apologia e potete darci un'occhiata se avete tempo o interessi a farlo e poi abbiamo le riflessioni del circolo ossia qui viene riportato ogni seduta ogni seduta all'incontro che facevamo sono ancora rimaste le sedute del consiglio comunale ma ogni incontro che facciamo voi potete trovare quello che ogni persona partecipante del gruppo portava come proprio contributo ossia ciascuno di noi alla riunione all'incontro porta una breve o comunque a seconda di come intende sviluppare il pensiero che ha elaborato a casa a seguito della lettura dell'opera il proprio contributo lo esprime nel gruppo e qui trovate siamo in ordine alfabetico rigorosamente quindi Antonino Fiore poi ci sarà la Carlotta chiaramente perché poi c'è la C ok successivamente adesso passiamo un'altra opera che è il critone che abbiamo letto sempre riflessioni del circolo voi potete andare scusatemi adesso la faccio un po' più breve altrimenti è importante che possiamo parlare tra noi poi prendiamo ad esempio riflessioni del circolo che sono sì come vi dicevo prima i contributi che ciascuno ha dato e poi c'è il dialogo e idee il confronto di idee nella parte in cui scusatemi sto facendo una gran confusione ma adesso posso farcela dialogo il confronto di idee e qui è praticamente la verbalizzazione di quello che ci siamo detti nel corso dell'incontro quindi praticamente in questo epitome abbiamo riassunto a parte l'opera che abbiamo letto quel che poi è successo tra di noi relazioni che ciascuno ha fatto e dialogo che poi ne è scaturito alla fine abbiamo messo anche abbiamo proposto vi proponiamo anche gli articoli che poi sono stati pubblicati nell'endimione riguardanti le l'attività che è stata svolta sostanzialmente quindi ecco io non mi dilungherei oltre perché chi ha voglia un attimo di vedere come funziona il circolo perché vedere uno cosa è stato fatto due perché magari se può interessarvi chiaramente il circolo è aperto a tutti grazie grazie Carlotta forse vorrei dire soltanto che il concetto è questo ci si mette d'accordo per un testo Platone il mito della caverna ok ci distribuiamo il testo lo leggiamo e scriviamo le nostre riflessioni queste riflessioni vengono messe a disposizione di tutti quindi le mie vanno a tutti gli altri e le loro viceversa ok e questo diventa il tema e il dialogo che viene fatto nel momento in cui ci incontriamo ogni secondo sabato del mese dalle 10 a mezzogiorno in una sala qua vicino qua all'interno all'interno del palazzetto ecco questo è quanto nell'epitome abbiamo messo tutte queste cose ok grazie a Carlotta che si è data da fare per tenere tenere nota di tutto quello che abbiamo fatto e anche abbiamo aggiunto anche tutti gli articoli che abbiamo pubblicato sull'endimione quindi è una raccolta completa il giorno 9 di novembre ok ci troviamo qua alla riunione abbiamo invitato l'assessore che è qui presente e abbiamo invitato anche Martina che è la responsabile della biblioteca a cui doneremo in maniera digitale tutto il lavoro che abbiamo fatto e sarà a disposizione della biblioteca e di tutti quelli che vorranno eventualmente consultarlo grazie adesso adesso diamo diamo voce al laboratorio di dialogo quindi questi tre personaggi Donato Deserti il signor Dario Capretta e Giovanni Vettoretti condurranno questo laboratorio va bene allora prima di iniziare volevo ringraziare l'amministrazione comunale l'assessore e ci sono anche dei consiglieri che sono venuti bene allora questa sarebbe la terza parte del lavoro che facciamo normalmente quindi noi abbiamo bisogno di voi perché diamo il via al laboratorio filosofico come funziona facciamo finta che voi abbiate studiato quei libri lì no ma non li avete studiati però non fa niente perché noi vi proponiamo alcune frasi alcune frasi tratte dai libri che abbiamo letto e così sono diventati scusate se mi alzo sono diventati aforismi allora cosa facciamo leggiamo insieme le frasi e poi da queste frasi ricaviamo delle domande il gioco è questo perché come diciamo tutti noi non filosofi ma amici della filosofia la filosofia non dà risposte ma produce domande quindi il compito che ci affidiamo adesso è produrre domande allora voi direte ma noi usciremo qui con tante domande in testa e nessuna risposta sì ecco questo è bene è la cosa più importante farsi domande e le risposte a volte arrivano ma come abbiamo scritto in questo epitome ogni risposta è già una domanda è un circolo pensiero filosofico è circolare ecco perché l'abbiamo chiamato circolo filosofico sapete che per esempio il pensiero degli orientali è circolare mentre il nostro sarebbe più orizzontale ma noi siamo un po' orientali in questo allora leggiamo insieme naturalmente l'argomento da cui partiremo stasera è il tema principale dei nostri incontri quindi il dialogo però abbiamo aggiunto anche e verità già si può fare l'analisi del testo allora quindi possiamo chiederci ma cosa significa dialogo e poi potremmo chiederci cosa significa verità abbiamo messo anche lì e qualcuno di voi ha risposto e dopo l'ultima parte del gioco è che voi rispondiate a tutte quelle domande allora Aristotele non determina il fine della dialettica con la mia stessa precisione dice Schopenhauer che vedete sotto egli ne indica infatti come fine principale il disputare ma al tempo stesso il ritrovamento della verità questo è Aristotele ma Schopenhauer dice per dare forma con chiarezza alla dialettica si deve senza preoccuparsi della verità oggettiva che spetta la logica considerarla semplicemente come l'arte di ottenere ragione e qui rispetto alla prima diapositiva ci aiutiamo a vicenda nel senso che adesso è un po' un esempio di come dovremmo lavorare questa sera prima domanda cos'è il dialogo seconda cos'è la verità terza domanda dice cos'è la logica senza preoccuparsi della verità oggettiva che spetta alla logica ma quindi non spetta alla dalla dialettica e quindi la domanda che vi viene spontanea qual è? qual è? spontanea proprio? qual è la differenza tra logica e dialettica mi sembra chiaro no? benissimo eh volevo dirlo perfetto e dopo c'è anche un'altra roba senza preoccuparsi della verità oggettiva che spetta considerarla semplicemente come l'arte l'arte di ottenere ragione e allora qui cosa ci domandiamo ma noi quando dialoghiamo lo facciamo per cercare la verità o per ottenere ragione ecco allora adesso l'arte di ottenere ragione non è un libro di Schopenhauer proprio il titolo no? me lo ricordo me lo ricordo è vero la tentazione forte quando si discute non è andare alla ricerca della verità oggettiva è avere ragione di solito la natura umana porta a questo anche se vogliamo dare a credere che stiamo andando in cerca della verità però tantissime volte quando dialoghiamo con qualcuno specialmente se vogliamo portare avanti la nostra idea che non è detto che sia appunto la verità oggettiva quello che la natura umana porta a fare è cercare di convincere l'altro che abbiamo ragione non che quello che diciamo sia la verità ma che abbiamo ragione ahimè di solito è così c'è qualcun altro che vuole aggiungere qualcosa al dibattito sì sì faccio io allora da una provocazione ovviamente sempre per costruire dialogo diciamo ma questo tipo di comunicazione vale sempre o in qualche occasione riusciamo effettivamente a trovare la verità ne lo so per esempio nel dialogo politico potremmo essere indirizzati alla ragione quando parliamo con un amico magari cerchiamo la verità oppure no sì può rispondere anche qualcun altro darei un breve inquadramento storico della frase allora questa frase è tratta dall'arte di ottenere ragione di Schopenhauer qui Schopenhauer fa un salto rispetto al pensiero antico perché nel pensiero antico la verità era la verità con la V maiuscola cioè era la logica e il ragionamento che attraverso la dialettica quindi il confronto riusciva a mostrare il difetto della correttezza del ragionamento dell'altro allora qui ci sono già due concezioni di verità che vi butto lì allora c'è una verità come corrispondenza con la realtà e c'è una verità intesa come correttezza del ragionamento ok per esempio se io dico ogni volta che c'è una nuvola piove ogni volta che c'è una nuvola piove oppure dico c'è una nuvola e piove il ragionamento è corretto in entrambi i casi quando è vero nella prima o nella seconda nella prima abbiamo detto ogni volta che c'è una nuvola piove nella seconda c'è una nuvola e qui e piove la seconda perché perché c'è una generalizzazione ecco quindi c'è una differenza tra la verità come oggettività come corrispondenza con la realtà e la verità come coerenza e correttezza del ragionamento in questo senso Schopenhauer riconosce in Aristotele e nel suo maestro Platone e Socrate riconosce questo tipo di ragionamento nella verità il passaggio successivo che fa ecco come diceva l'assessore è anche di grande attualità e riconosce che poi in fondo tutti noi alle volte facciamo questo il passaggio è che per dare forma con chiarezza alla dialettica si deve senza preoccuparsi della verità oggettiva che spetta alla logica quindi al ragionamento oggettivo e coerente considerarla semplicemente come l'arte di ottenere ragione cioè lui dice per dare forma con chiarezza alla dialettica vuol dire che il ragionamento con l'altro nel ragionamento con l'altro alla fine non vince la verità del ragionamento ma la capacità di ottenere ragione lui in quel libro sviluppa otto stratagemmi che se noi guardiamo i programmi soprattutto di approfondimento politico possiamo notarli ad esempio colpevolizzare l'avversario usare la platea per ottenere ragione come dire demolendo anche dal punto di vista morale dell'avversario eccetera eccetera quindi questo passaggio è fondamentale per questa ragione perché dall'idealismo del pensiero antico si passa alla concretezza Schopenhauer riconosce che le emozioni sono più forti della ragione e possiamo usare le emozioni per ottenere ragione indipendentemente dalla verità oggettiva delle cose ecco quindi se volete ragionare sulla verità qualcuno ha qualche domanda ecco e quindi se lo dice l'assessore io che sono una minoranza dirò che non è la verità ma che è è un tentativo di avere ragione continuo nel gioco nel senso che mi presto alla discussione quindi la difficoltà a mio avviso è quando dalle diciamo dai ragionamenti si scende nella nella realtà e nella concretezza della quotidianità nella concretezza della quotidianità molto spesso siamo portati a dire che tutto quello che ci conviene è giusto e tutto quello che non ci conviene è sbagliato che abbiamo una valutazione delle cose che è molto legata a un livello diciamo più basso e invece nelle discussioni accademiche chiamiamole così questo questa relazione si sposta si va a confrontare ovviamente quindi su un ambito teorico ma a me piace il primo caso io sono uno di quelli che piace sguazzare nel fango più che volare alto vorrei dire si sente sì vorrei dire che Schopenhauer quando vorrei dire che Schopenhauer questo divretto qua non l'ha neanche visto lui aveva scritto delle cose perché aborriva che quando si dialogava ok per tante persone utilizzavano degli stratagemmi per avere ragione anche se ragione non l'avevano e lui si è segnato tutte queste cose qua lui non voleva scrivere questo libretto l'hanno fatto postumo però che cosa ci insegna questo libretto ci insegna una cosa non ci sta dicendo se vuoi avere ragione oppure si può vedere anche così se vuoi avere ragione adotta a questi stratagemmi 38 sono 38 stratagemmi il concetto come la vedo io è sappi che esistono questi stratagemmi quando dialoghi riconosceli e sappi che possono essere usati contro di te quindi nel momento che li riconosci magari sei capace anche di annullarli ti rendi conto hai il tuo pensiero critico questo è il senso così l'ho interpretato io e così l'abbiamo discusso perché è uno dei temi che abbiamo discusso nella nostra opera comunque dipende sempre dal contesto perché in ambito politico sì diciamo che il fine è quello di ottenere ragione però se parlo con voi in questo in questo contesto il fine non è questo il fine è arrivare ad un ad un certo tipo di verità se parlo con degli amici normalmente anche dipende dipende veramente dal contesto sì proprio in in funzione delle riflessioni che abbiamo condiviso nel nel circolo abbiamo visto che in realtà questa modalità di comunicazione è proprio anche naturale per noi indipendentemente dall'obiettivo della del nostro incontro del nostro dialogo con l'altra persona è proprio mi viene in mente Carlotta che aveva fatto questo che aveva creato questo dialogo tra la mamma e Arthur Schopenhauer proprio dove viene riportata una conversazione che avviene frequentemente in casa in famiglia insomma e in questa conversazione apparentemente normale in realtà c'erano già inseriti degli stratagemmi per per ottenere per ottenere ragione questa è stata una cosa interessante che non è solo un concetto astratto ma anche noi nella nostra vita e quotidianamente utilizziamo involontariamente senza saperlo questi questi stratagemmi sì no sì certo una delle cose interessanti che ci aiutano ad analizzare il testo è la concezione di persona che avevano gli antichi e la concezione di persona che ha Schopenhauer con Schopenhauer si apre una fase storica nuova una fase nuova storica del pensiero perché con Schopenhauer Schopenhauer è un po' il padre anche del pensiero di Freud perché non c'era una concezione di inconscio quindi la persona era il pensiero ok poi c'era una concezione sociale diversa però dal punto di vista del soggetto pensante nel pensiero antico noi eravamo fatti diciamo prevalentemente di ragionamento addirittura c'era questa concezione di sopravvivenza dell'anima e poi viene ereditata anche dal pensiero cristiano del pensiero cattolico di sopravvivenza dell'anima nella sua parte razionale per cui il corpo era considerata una cosa da cui staccarsi perché era una cosa negativa tutto ciò che era corporeo era considerato negativo Schopenhauer invece fa un salto importante lui dice che in realtà il pensiero è solo successivo alla corporeità e ciò che muove il soggetto molto spesso è la parte corporea sono le emozioni gli istinti eccetera eccetera tutta quella parte dell'inconscio quindi questo ci aiuta a capire anche perché lui dice attenzione agli idealisti al pensiero antico voi state dicendo la verità cioè il ragionamento dal punto di vista logico è corretto ma la persona in sé guardate che è qualcosa di più anzi molto spesso la persona è così naturalmente lui usa due frasi in questo testo innata volontà di prevalere sull'altro e innata vanità cioè il soggetto è un soggetto molto egocentrico soggetto in cui non è la ragione che viene prima ma è la volontà ecco perché lui poi scrive questo testo per avere come dire una visione del soggetto più ampia rispetto anche al pensiero antico e questo aprirà poi nel pensiero successivo la storia della psicanalisi tutto quello che succede nel novecento nella letteratura nelle scienze nasce un po' lui è un po' di questo pensiero ecco allora io che non studiavo filosofia dal 1983 ma la data è quella giusta quando ho letto questa diapositiva qua mi sono riproposto di studiare Aristotele insomma dice studiare Aristotele ci vogliono vent'anni vabbè e poi di andare a vedere la differenza tra logica e dialettica e leggermi il librettino di Schopenhauer quindi partecipare a un circolo di filosofia significa anche o riprendere studi abbandonati tanti anni fa oppure approcciare un nuovo percorso approcciarsi a un nuovo percorso magari chi non l'ha mai studiata ecco quindi e ancora oggi sebbene abbiamo superato la fase Schopenhauer nel circolo filosofico io sto leggendo qualcosina di Schopenhauer quindi è proprio uno spunto per approfondire le proprie conoscenze ecco c'è qualcun altro che vuole aggiungere qualcosa rispetto a logica dialettica verità dialogo per avere ragione oppure passiamo a quella successiva ringraziamo gli antichi perché hanno costruito la lingua filosofica e hanno costruito proprio la lingua che usiamo nella logica come diceva prima Dario un conto è la verità della frase la verità della frase è un conto è se quella frase dice la verità oggettiva ecco di questo dobbiamo essere grati agli antichi che hanno proprio costruito il vocabolario della filosofia della lingua e del pensiero logico cosa facciamo Carlotto andiamo avanti il povero Giovanni falla a me dai se quello che dicevamo prima appunto se diciamo il nostro ottenere ragione è situazionale oppure ontologico innato nel senso ci sono momenti in cui possiamo parlare per cercare la verità possiamo dialogare come lo intendevano i greci appunto oppure necessariamente ogni volta che parliamo vogliamo avere ragione secondo allora io su questo sposo la considerazione di Irene secondo me la verità non esiste quindi dipende dalle circostanze la verità è un punto di vista io l'ho scritto anche lì da qualche parte ok neppure la scienza riesce a dirci la verità cioè ci dà conoscenza oggettiva no non umenica come si direbbe ma solo il fenomeno cioè e poi magari ci torneremo su questa cosa qua e quindi sì no la verità noi quando parliamo la verità non la raggiungiamo mai e poi dipende dalle circostanze parliamo proprio rispetto a circostanze per quello che ci conviene principalmente è quanto ci tocca e questo ci introduce a questa diapositiva se qualcuno vuole provare a dire che cos'è secondo lui il dialogo cioè cosa significa la parola dialogo o come semplicemente lo intende lui nel senso non è che non siamo dialogo penso sia confrontarsi uno si mette a dialogare per confrontarsi per sentire l'altra persona e questo poi può senza appunto non come prima per forza la ragione che penso che la seconda frase che era nella nella diapositiva di prima sia quella la tesi di Schopenhauer sia adottata nelle aule dei tribunali quella di arrivare alla ragione cioè l'obiettivo il fine della ragione e non la verità leggo il cartello la prima condizione perché il dialogo sia possibile è il rispetto reciproco che implica il dovere di comprendere lealmente ciò che dice l'altro lei si rispecchia in quello che ha detto perfetto allora dialogo e verità no questo abbiamo già fatto dai vai avanti ti sei stancato di andare avanti e indietro hai ragione dai vengo io lì dopo allora dai leggiamo insieme coscienza e verità l'uomo vede bene ciò che ha ma non ciò che è non c'è nulla di più difficile che non ingannare se stesso io vi confesso che questa frase non l'ho capita poi se riusciamo o se riuscite a farmela comprendere Wittgenstein è difficile accettare che a muovere la nave dell'io ci siano altre forze oltre al capitano al timone allora qui cominciamo dalla metafora io vi chiedo se avete voglia di rispondere chi è il capitano al timone intanto a me verrebbe questa domanda spontanea vorrei solo una precisazione nel senso che noi parliamo di filosofia ma non è che siamo filosofi o studiosi nel senso quando ci confrontiamo coi testi cerchiamo di capire il significato che hanno per noi quindi ogni opinione personale idea personale chiaramente è giusto che rifletta ciascuno di noi non ci interessa la correttezza a livello filosofico di termini anche se un po' ci interessa un po' ci interessa non vogliamo proprio parlare di ciò cerchiamo di arrivarci alla correttezza cerchiamo quello è anche un obiettivo però partiamo da lì partiamo partiamo dalle opinioni di ciascuno che però devono essere fondate insomma il vantaggio che abbiamo noi è che prima leggiamo il testo il libro e poi dopo ne parliamo invece voi avete nessun vantaggio siete assolutamente svantaggiati chi è il capitano e chi è la nave io mi chiederei subito questo credo che fondamentalmente per quello che sento io per me stessa il capitano è il mio io interiore e la nave sono io quando mi muovo nell'agire quotidiano nell'agire con l'altro nel nel dialogo appunto il dialogo parte da dove dal pensiero ma il pensiero da dove parte il pensiero parte dal mio io interiore da quello che sono io con le mie esperienze alla fine e io sono quello che sono adesso in questo momento ma sono così perché ho avuto determinate esperienze diciamo oltre che avere un bagaglio magari di studio a seconda di chi siamo di ma secondo me quello che ti forma di più ancora sono le esperienze di vita perché le vivi con il tuo bagaglio emotivo in questo senso posso farle una domanda sì secondo lei anche alla luce di quello che abbiamo visto prima soprattutto la critica che Schopenhauer fa ad Aristotele no cioè un tema che non è la verità sempre ma è la tendenza a prevalere sull'altro no lei cosa definirebbe come le altre forze che guidano la nave o che guidano il timone della nave oltre all'io se l'io lei dice l'io sono io con le mie esperienze e quindi con la consapevolezza che io ho delle mie esperienze quali sono le altre forze le altre forze possono essere a seconda delle situazioni possono essere le emozioni possono essere le credenze l'educazione in particolar modo l'educazione e lì gioca educazione di che tipo anche se legata a una religione o meno e quanto e anche le conoscenze legate a uno studio perché uno che non ha potuto studiare ha meno conoscenze e rispetto scusi se continuo il gioco filosofico con lei e rispetto a queste forze che condivido insomma possiamo sommariamente sintetizzare in quello che lei ha detto rispetto a queste forze e all'io che lei diceva è diciamo la coscienza di se stessi che rapporto hanno questi due con la verità devo rispondere diciamo che anche lì è sempre un gioco di forte nel senso che magari sarei portata nel mio io interiore a fare determinate cose a dire magari però nello stesso tempo entra magari l'educazione cattolica la religione che mi blocca e allora devo sentire se basta sentire o se io credo ad esempio sono di religione cattolica sono molto rigida sui dieci comandamenti e allora lì una forza è quella secondo me no no premetto che la mia come diceva Donato prima la mia non è la richiesta di una risposta no no era solo che no mi piace perché poi queste domande ci inseguono soprattutto noi che siamo appassionati queste domande ti inseguono e anche adesso anche la scienza ad esempio ha una difficoltà a definire la coscienza non è che stiamo parlando di cose quindi per noi l'interessante è interrogarci perché poi questo quando guardiamo a noi stessi ci aiuta anche a capire che cosa ci muove e qual è la distanza tra noi e quella verità che noi riteniamo ideale per esempio e anche qui vi lancio una provocazione pensiamo al mondo all'attualità anche grave perché poi questo dipende come dire la governabilità dei vari paesi ma le fake news e a cosa la persona si affidano poi per decidere su che scelte fare e le conseguenze che queste hanno poi nelle scelte politiche nelle scelte personali quindi non sono domande astratte queste qui perché le emozioni che ci governano il rapporto con la coscienza e il rapporto con l'idea di verità è poi quello che guida i nostri comportamenti altre considerazioni pensavo a quello che diceva Donato prima sulla frase che non capiva io l'ho letta più no no che tu dicevi l'ho letta l'ho riletta io ho letto ho riletto la prima ho letto ho riletto sotto e personalmente il collegamento che io vedo tra non c'è nulla più difficile di non ingannare se stessi è difficile accettare che è difficile ammettere con se stessi che a volte le azioni che noi compiamo hanno delle motivazioni diverse da quelle che noi vorremmo che fossero nel senso che io faccio una certa cosa e mi piace pensare di essere mossa da altissimi sentimenti di altruismo eccetera così ma non c'è nulla è più difficile che non ingannare se stessi ed è difficile ammettere che c'è qualche altra forza che sta muovendo la mia nave faccio qualcosa perché mi piace ingannare me stesso dicendo lo sto facendo perché sono brava sono altruista sono così e invece se uno sta attento a ciò che è invece che ciò che ha forse si dovrebbe riuscire a capire che certi comportamenti hanno delle motivazioni a volte molto meno nobili di quelle che noi ci raccontiamo però è una cosa molto difficile da me la frase la potremmo cambiare così è interessantissimo solo una considerazione poi passo il telefono quello è telefono il microfono l'uomo vede bene ciò che ha ma non ciò che è è bellissimo quello che lei ha detto perché in realtà appunto c'è una differenza tra tutto quel mondo e l'io cosciente possiamo dire che qui si gioca il rapporto tra la verità e noi che ci approcciamo alle cose ma non c'è solo ma non c'è solo il modo di cui ha parlato lei di ingannare se stessi spesso è molto difficile vedere quello che si è indipendentemente dal voler apparire non sempre è mosso dal voler apparire voler far vedere una versione diversa di se stessi spesso e penso molto spesso è difficile anche volendo essere obiettivi verso se stessi quindi è una cosa ancora più difficile e quindi come lo risolviamo il rapporto tra coscienza e verità è difficile eh sì con domande sì sì l'utilità dell'inutile è fortissimo questo cioè quando parli di filosofia dico vabbè dai mi mettete là a fare per me è proprio utile seppure inutile allora per me non è difficile accettare che a muovere la nave dell'io ci siano altre forze oltre al capitano al timone perché so che l'uomo è così no l'uomo è un essere finito è un essere che ha emozioni che molto spesso prevalgono sulla ragione o sulla giustizia e però bisogna definire bene la coscienza qua eh qua bisogna definire bene la coscienza eh quello che volevo dire io è che la coscienza si costruisce sono le esperienze che uno ha nella vita specialmente nei primi anni che quando si è giovane che uno crea la coscienza no per cui eh vorrei quasi dire per definizione la coscienza non è verità insomma sono due cose diverse se prendiamo la verità come una cosa oggettiva eh tra coscienza e verità non c'è correlazione allora le faccio un gioco linguistico sempre un gioco di domande allora se la coscienza non è verità vuol dire che è falsa no no vuol dire che eh la coscienza si crea la propria verità che è quello che diceva prima il la diapositiva prima no cioè uno eh con la sua coscienza si crea la sua verità non esiste la verità oggettiva cioè diciamo assoluta no questo è quello che penso io verità assoluta non esiste cioè la verità matematica cioè forse anche quella ormai la verità possiamo considerare una relazione un ideale regolativo perché dire che non esiste vuol dire che salterebbe qualsiasi dialogo anche tra di noi no è soggettiva e non oggettiva anche questo è un limite perché se fosse totalmente soggettiva non potremmo comunicare tra di noi io tra l'altro quando ero in fabbrica più che dialogo si parlava di comunicazione no però il dialogo è la comunicazione tra due persone no e dicevano l'importante non è quello che tu dici ma quello che l'altro capisce comprende quindi diciamo quando si dialoga si deve dialogare in modo che l'altro capisca quello che uno dice perché tante volte uno è convinto di dire una cosa e l'altro ne ha capito un'altra diciamo il 90% e comunque quindi non può essere totalmente soggettiva perché se due persone si devono comprendere dialogando torniamo al tema della verità degli antichi cioè le due definizioni base di verità una verità come oggettività cioè tutti e due tutti insieme qui possiamo convenire che siamo in una sala chiusa con delle luci con un proiettore con delle sedie quindi non è che non esista la verità oggettiva è che alle volte abbiamo sguardi prospettive pensieri diversi su questa oggettività ma non è che non esista non è totalmente soggettiva la verità giusto? altrimenti noi non ci metteremo d'accordo io penso che tutti in questo momento pensiamo che questa sia una sedia giusto? in questo senso è una forma di oggettività altra cosa è la correttezza abbiamo detto del ragionamento ti provo con un attimo se qua ci fosse una persona per esempio cieca e tu gli dici siamo in una stanza chiusa con le luci lui riuscirebbe a capire questa cosa oppure no? nel senso c'è un sostrato comune che anche una persona che non ha mai visto una luce riuscirebbe a capire? sì nel senso che non potremo altrimenti comunicare con lui parleremo lingue completamente diverse il presupposto è che si voglia dire la verità tutti e due quindi si converga su un discorso su un discorso oggettivo che c'è la luce accesa in questa stanza e che usiamo lo stesso linguaggio perché anche se venisse dentro un cinese o un africano che non parla la nostra lingua faremo fatica se non a gesti allora con la gestualità possiamo al limite indicare le luci però sarebbe fatica fare un discorso significativo quindi l'oggettività c'è c'è perché abbiamo un linguaggio comune che converge sull'idea che il mondo che noi affrontiamo è fatto allo stesso modo non so se mi spiego esatto esatto ritorniamo sempre alla definizione iniziale alla differenza alla quello che ci consente di comunicare è intanto definire il senso delle parole quindi dobbiamo capire il senso delle parole perché con le parole possiamo indicare le cose una volta che abbiamo le stesse parole per indicare le cose dobbiamo in qualche modo dare credere che c'è una sede in questa stanza insieme poi possiamo toccarla per vedere che c'è però dobbiamo convergere sul fatto che vogliamo trovare quello che c'è nel mondo esterno cioè c'è la sedia e poi le parole ci possono aiutare a raggiungere quella sedia se dopo uno vuole imbrogliarmi e dirmi che questa non è una sedia lì parte tutto il ragionamento che fa anche Sol Canavera però un'idea di oggettività c'è chiudo dopo lascio la parola per esempio nella scienza cos'è la verità nella scienza si dice che la verità è una nell'epistemologia negli studi di teorie delle scienze si dice che la verità è una credenza cioè tutti abbiamo un'opinione vera cioè che si riferisce alla sedia e giustificata cioè o trovo un vocabolario o uno scienziato o un chimico che mi dice che è una sedia di plastica quindi credenza vera giustificata nella scienza è il concetto di base di verità però ci deve essere un'idea di verità altrimenti non potremo comunicare volevo solo dire che la verità può essere oggettiva solo nell'ambito quelli che fanno la discussione cioè noi qui possiamo dire verità oggettiva quella che discutiamo tra noi se prendiamo una persona esterna può essere che lui non veda questa verità questo volevo dire sì certo il rapporto della verità con la parola è fondamentale poi potremmo dire che è vero che per esempio una terza forma che non abbiamo detto di verità è la verità come disvelamento che è la origine antica della parola cioè una cosa che io non avevo visto finora e che adesso vedo se uno scienziato scopre un pianeta nuovo e non ne ha mai parlato con la comunità scientifica e poi con la collettività quel pianeta non esisteva per noi però in sé esisteva fuori di noi quindi è vero che la parola ci aiuta a comunicare e a parlare della verità però quella verità può esistere anche se noi non la vediamo un esempio lampante cioè come si chiama la variazione climatica il clima che cambia magari noi qui facciamo una discussione arriviamo alla verità interna nostra che l'uomo cambia il clima se prendiamo qualche altra persona all'esterno per lui la verità è diversa quindi però convergiamo comunque sul fatto del cambiamento climatico possiamo dire c'è sempre stato è ciclico ok quindi noi vediamo che vengono più alluvioni quello che abbiamo quello che vediamo tutti i giorni però uno ha un'opinione e un altro ne ha un'altra quindi ognuno dei due ha una verità soggettiva però c'è una verità oggettiva che è la corrispondenza alla realtà che sono i fatti sì allora beh sulla verità potremmo stare ore e ore anche perché esistono la verità di fede per esempio di cui non abbiamo parlato no? e Dario diceva la verità è un codice condiviso se no non potremo comunicare basta che quel codice se il codice è condiviso da entrambi ha in sé una verità dopo possiamo avere opinioni diverse c'è la verità cosiddetta verità di ragione le abbiamo codificate noi nel nostro pensiero non è il caso di approfondire però il tema della verità è un tema molto importante ci siamo soffermati meno sulla coscienza evidentemente ci sfugge un po' di più o ci interessa un po' meno se qualcuno vuole dire qualcosa sulla coscienza eh? eh va bene la coscienza è molto legata all'educazione che uno ha avuto anche qui esiste una coscienza universale condivisa individuale non lo so queste sono tutte domande che possiamo anche porci Irene dice universale io non credo ecco anche studiare bene il problema della coscienza sarebbe importante per noi che magari ci dilettiamo così di giocare con la filosofia cosa facciamo andiamo avanti voglio solo dire rispetto alla coscienza per esempio nelle neuroscienze si stanno facendo dei passi in avanti notevoli e se per coscienza intendiamo la presenza mentale alle cose la presenza mentale alle cose quindi non solo la capacità di ragionare ma la presenza del nostro cervello adesso togliamo la parola mente togliamo la parola mente e usiamo la parola cervello se il nostro cervello è presente alle cose e si modifica l'atteggiamento cioè il corpo si muove in un certo modo piuttosto che in un altro perché subisce degli stimoli esterni allora la coscienza è presente anche negli animali infatti è nelle macchine poi apriremo un altro tema quello dell'intelligenza artificiale per esempio per esempio l'università di Padova quest'anno ha ricevuto dei grossissimi contributi e stanno studiando l'intenzionalità delle piante perché si sono accorte che le piante non hanno un movimento quindi parliamo dei laboratori non solo di neuroscienze ma di chimica di fisica di eccetera tutto quello che c'è perché le piante non hanno un movimento solo automatico ma si adeguano alle situazioni dell'ambiente e quello che trovano e qui si comincia a pensare di parlare di coscienza delle piante quindi noi abitualmente e questo non è per dire che la verità è questa nel senso scientifico ma per solo per provocarvi sul fatto che noi alle volte usiamo le parole dando per scontato che il significato sia quello infatti un po' la funzione della filosofia anche nel rapporto con le scienze oggi è proprio questo i filosofi aiutano le scienze a mettere in discussione le premesse dei propri ragionamenti l'uso delle parole che fanno dentro i propri ragionamenti stanno studiando l'università di Padova si parlano di intenzionalità delle piante e comunicano fra di loro però è cosciente una pianta questo filosofo ha fatto una svolta nella filosofia del novecento Wittgenstein Ludwig Wittgenstein un filosofo austriaco ha fatto la cosiddetta svolta linguistica del novecento cioè lui ha detto prima che di occuparsi della realtà esterna la filosofia per comprendere deve occuparsi del proprio ragionamento in termini linguistici quindi non solo la prima parte della sua vita ha prodotto un testo famosissimo ancora studiato sul piano della logica che è il Tractatus Logico-Philosoficus nella seconda parte della sua vita nelle ricerche filosofiche lui studia proprio questo vi dico che il peso di quel di quel tipo di studi sul linguaggio sulla chiarezza del linguaggio ha fatto fare un salto in avanti ai traduttori automatici che noi usiamo per passare da una lingua all'altra sull'internet sul cellulare proprio perché lui ha capito cioè detta in estrema sintesi l'uso che noi facciamo delle parole arricchisce i nostri significati e quindi più usi quelle parole e più cominci a fare chiarezza dei significati in questo senso ha arricchito se voi ricordate qualche anno fa chi usava il traduttore era molto spesso non si riuscivano a capire adesso è quasi fedele la traduzione e è proprio grazie al testo di Wittgenstein che è stato fatto questo salto in avanti detto questo l'interessante qui appunto tra le domande è porsi la domanda principale sul significato delle parole il contesto ma anche l'uso esatto l'uso l'uso delle parole in un contesto io posso dirti bravo anche solo intenzionalmente senza senza cambiare significato delle parole posso dire bravo per dire bravo posso dire bravo perché voglio dire bravo hai sbagliato per esempio dipende dal contesto in cui uso le parole al di là poi che ogni parola nel tempo cambia di significato oppure le parole hanno più significati in sé questo tanto per complicare la cosa quindi il termine di coscienza noi lo usiamo quotidianamente perché tutti lo usiamo e intendiamo qualcosa che in realtà ancora non sappiamo bene poi arrivo io con queste domande ma quando dormiamo quando sveniamo quando siamo in coma perdiamo veramente la coscienza e qui tutti mi dicono stai zitta no no ma anche qui è un tema è un tema interessantissimo no no questo apre un tema è un tema molto e di grande attualità di grande attualità perché la persona vi faccio questa domanda questa domanda e via possiamo aprire una discussione secondo me su questa domanda qua perché ha dei risvolti etici enormi la persona è la persona che ha coscienza nel senso nel senso tu consideri persona quello che ha la capacità di ragionare che ha coscienza in questo caso intendendo la capacità di ragionare o anche chi non ha la capacità di ragionare è persona e se chi non ha la capacità di ragionare è persona lo stesso perché è persona è una persona tale perché questa cosa qua ha dei risvolti etici enormi provate a pensare no pensiamo l'aborto l'eutanasia i coma ok è una persona no intendo dire questo ovviamente poi produce anche degli effetti a livello legislativo allora quindi tu stai dicendo coscienti a se stessi e agli altri giusto cioè quindi capacità di interagire con se stessi o con gli altri in forma interrogativa anch'io la pongo in forma interrogativa tu stai dicendo capacità di interagire con se stessi con gli altri di avere aperto una finestra di dialogo di presenza mentale anche sensazioni no semplici sensazioni anche le più elementari giusto ecco tu stai dicendo questo quando la quindi esiste o no la persona senza la coscienza questa è la sintesi portatevelo a casa esiste o no la persona senza la coscienza guardate che sembra strato se voi pensate ci sono constituzioni e legislazioni nei diversi paesi del mondo in cui il concetto di persona è molto diverso quindi abbiamo capito che il dialogo che si svolge in una relazione non è poi così semplice e lineare quindi noi siamo persone razionali ma anche emotive ma anche abbiamo ognuno le proprie mappe cognitive le proprie mappe emotive che applichiamo all'altra persona ma le mappe non coincidono sempre anzi sono diverse perché le esperienze sono diverse le credenze sono diverse i preconcetti sono diversi e quindi capirsi è veramente un labirinto un pasticcio non è facile quindi è più facile tentare di avere ragione ok da qua diciamo che studiare provare a capire cos'è veramente un dialogo e cioè ascoltarsi senza pergiudizi ascoltarsi cercando di capire magari facendo domande perché poi le domande sono fondamentali ok allora forse si riesce a viceversa viceversa può risultare anche un dialogo può risultare anche un discorso tra sordi e le relazioni a questo punto non funzionano ma le relazioni sono fondamentali là c'è scritto che le relazioni sono un filo che unisce e forma la nostra personalità abbiamo bisogno di relazioni abbiamo bisogno degli altri con cui confrontarci e crescere sempre meglio quindi la domanda è siamo capaci di dialogare? volete andare a casa? tra poco bisogna andare a casa alle 10 ci buttano fuori allora mamma mia vado qua se no Sergio si arrabbia allora verità mente e mondo vabbè questa qua la prima immaginiamo di avere tutti delle lenti blu che ci deformino la realtà questo non significa che il mondo sia blu che banalità la banalità dell'essere eh è vero o non è vero ma è vera o no questa cosa? chiedilo a loro se qualcuno vuole provare a rispondere se io dalla nascita ho una condizione per cui vedo blu no esatto se io ho un difetto fisico che mi fa vedere tutto blu secondo me quando uno ha un preconcetto è difficile che veda in un altro colore la la versione dell'altra persona che invece ha un preconcetto diverso che vede arancione eccetera eccetera è difficile ascoltare e entrare nella mente dell'altra persona resti della tua opinione ecco il concetto del del dialogo che è difficile sì questo è vero perché uno vede blu perché se uno è nato che ha visto si è sempre visto blu è chiaro che crede in quello però se si confronta con un altro può capire che esiste anche l'arancione e altri colori insomma ma finché non sento una persona che dice che c'è dell'arancione il suo preconcetto è quello il mondo è grigio il mondo è blu ecco no io lì mi farei questa domanda ma noi siamo in grado di vedere la realtà oppure c'è qualcosa che ce lo impedisce no la metafora è quella delle lenti blu allora Fiore diceva beh è un preconcetto la lente blu per me è un preconcetto però secondo me questa domanda questa affermazione che noi abbiamo trasformato in una domanda secondo me è molto più complessa siamo in grado di vedere la realtà oppure siamo nati con le lenti blu questo io mi chiedo siamo nati con le lenti blu anche a massa anche a massa da quello che mi sembra di aver capito di Kant lui dice che sì probabile ma li abbiamo tutti quanti cioè non è che uno le ha blu e le altre le ha di un altro colore in realtà il procedimento con il quale apprendiamo e vediamo i fenomeni quindi gli oggetti che sono di fronte a noi è uguale per tutti cioè anche se io non so che quella è una sedia io vedo quella cosa lì una persona che si mette al mio posto e guarda vede la stessa identica cosa non vede una cosa diversa da quello anche se non sa che è una sedia altre domande sull'oggettività torniamo un po' al discorso di prima iniziale ecco sì ecco il microfono torniamo un po' al discorso di prima iniziale cioè noi possiamo comunicare perché ci intendiamo perché c'è un linguaggio e perché c'è un oggetto in cui convergiamo per parlare quindi noi per natura abbiamo le lenti blu per esempio negli studi di scienze cognitive si sa che i bambini a differenza per esempio delle scimmie anche che sono i primati più vicini a noi riescono ad intendersi con gli adulti anche senza linguaggio cioè siamo l'unico animale l'animale umano è l'unico animale che può guardare una cosa e il bambino capisce che il tuo scopo è guardare quella cosa quindi noi abbiamo delle lenti blu che sono prelinguistiche ci sono prima del linguaggio se tu prendi un cane una scimmia o la destri a fare sempre quel gesto altrimenti naturalmente non converge sullo stesso punto si chiama attenzione congiunta e è la base poi del significato del linguaggio perché tu vedi quella cosa e comprendi che l'altro essere umano anche bambino tu che non hai il linguaggio capisci che lui ha già un'idea ha uno scopo cosa che gli animali non fanno perché sono soggetti almeno sembra finora a meccanismi e a non a scopi divergenti dall'impulso dall'istinto dalle cose un'altra domanda che mi faccio e vi faccio ma non è che quelle lenti blu siano la nostra finitezza i nostri limiti in quanto uomini secondo la percezione che forse noi possiamo avere della realtà è determinata da le nostre caratteristiche esattamente più di là non possiamo andare quindi tutti abbiamo le lenti blu perché facciamo essere finiti un esempio che faccio sempre io è se noi ci mettiamo in silenzio qua diciamo che c'è silenzio il cane direbbe che c'è un gran casino perché noi non sentiamo gli ultrasuoni quindi la nostra capacità di conoscere è il rapporto la nostra possibilità di conoscere è il rapporto tra la nostra capacità di conoscere qualcosa e quel qualcosa che c'è indipendentemente dal fatto che noi riusciamo a conoscerlo o quanto di quel qualcosa ci viene svelato nel rapporto con i nostri sensi con la nostra capacità di conoscere quindi la conoscenza è sempre un rapporto non è mai assoluta è il rapporto tra la cosa in sé e la nostra capacità di conoscere e quindi quelle lenti blu lì sono secondo me mi do una risposta alla mia domanda sono la nostra finitessa i famosi cinque sensi non sono mica uguali per tutte le specie no banalmente anche solo quello è un famoso esperimento quello che la mente tende a finire le immagini le immagini ambigue ecco adesso vi chiederemo cosa ci vedete voi lì dentro va bene no ecco la domanda è cosa ci vediamo noi lì dentro le lenti blu queste sono le lenti blu mi metto mi metto qui cioè abbiamo detto che ci sono le lenti blu noi pensiamo di percepire la realtà come quello che c'è questo ti dimostra che la mente costruisce la realtà anche dove non c'è perché noi qui cosa vediamo il triangolo bianco c'è noi noi lo vediamo ma in realtà non c'è formalmente ci sono delle linee e noi vediamo un triangolo bianco e vediamo anche un triangolo nero perché noi tendiamo a coprire di senso quello che vediamo le lenti blu sono il senso che noi diamo alle cose e copriamo anche dei segni che di per sé non avrebbero sì noi li riconosciamo perché sono delle linee che somigliano a un triangolo però noi creiamo il triangolo e questi sono questa è una parte della dimostrazione che noi costruiamo sempre automaticamente il senso delle cose anche se le cose non ci sono a volte sbagliando sì forse noi il mio romino ecco abbiamo un assessore una delle domande possiamo stare ancora un po' anzi volete stare ancora un po' e volete come pluralis o volete mi dà del voi il fatto il fatto di avere l'assessore ci tiene cioè voglio dire ci assicura che nessuno ci sgridi insomma ecco so di per certo che questo era l'ultimo stimolo no e finiamolo e bene visto che è l'ultimo stimolo io comunque vi invito tutti a venire al circolo di filosofia sì venite tutti venite tutti ci stiamo aveva 20 sedi e dentro la nuova ci danno la stanza sempre più piccola davvero perché vogliono un concentrato di filosofia non si accontenta è sbagliato avere una filosofia troppo allargata quindi capiamo avete capito che venire a fare filosofia tra virgolette vuol dire semplicemente cercare di capire e confrontarsi e imparare anche dagli altri ok quindi continuate a pensarci noi ci siamo il secondo sabato di ogni mese dalle 10 e mezzogiorno ok buonasera a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti